Terza Domenica di Avvento, Domenica della Gioia, Giovanni è il testimone. Diocesi di Latina, Terracina, Sezze e Priverno, Amati dal Signore, Sussidi di Avvento 2020. Terza Domenica di Avvento, Riflessione di Padre Luigi Recchia, dal Vangelo secondo Giovanni. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levidi a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò, io non sono il Cristo. Allora gli chiesero, chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora, chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose, io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero, Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro, Io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, Dove Giovanni stava battezzando. Pace e bene a tutti e buona domenica. Siamo alla terza domenica di avvento E oggi il Vangelo della Domenica ci presenta, In questo tempo di avvento, Il grande testimone che è Giovanni il battezzatore. E' importante sottolineare una cosa, L'Evangelista Giovanni ci tiene a questa dimensione di testimonianza Di Giovanni il battezzatore, A differenza dei sinottici, Che ci lo presentano come un precursore, Colui che precede Gesù nell'avvento del Regno. E invece Giovanni sottolinea questa dimensione di testimonianza, Quasi a indicarci una strada. Che cosa ha visto Giovanni di così importante? Questa è la domanda essenziale che penso tutti noi Dobbiamo porci in questa domenica, Avvicinandoci al Natale. Il Vangelo ci sottolinea che lui è il testimone della luce. Ma di quale luce si tratta? Ecco, l'Evangelista Giovanni Tiene a sottolineare che il testimone è colui Che vedendo Gesù ci dice Che cosa dobbiamo anche noi vedere In questo tempo di avvento. C'è un vedere particolare Che noi tutti amiamo condividere, Che è quello dell'incontro, della condivisione, Che è una dimensione, diciamo, importante, Ma anche superficiale. L'Evangelista Giovanni vuole che noi impariamo Che la testimonianza è suscitata Da una visione più profonda. E in questo io, che sono un francescano, Vorrei appoggiarmi anche a Francesco di Assisi, Che è un altro testimone Della verità e del Vangelo. Giovanni, nella sua testimonianza, Ci dice che lui ha visto un volto, Il volto di Gesù, E in quel volto ha voluto vedere Qualcos'altro, altro. E questo altro, noi lo sappiamo, È il volto di Dio. Ma anche l'autenticità Della vera umanità. Perché questo è il nostro Signore. Vero Dio e vero uomo. Contemporaneamente. E in questo anche Francesco di Assisi, In uno dei suoi scritti più belli, Che in verità riguardano, Riguarda l'Eucarestia, Ama dire che come i discepoli Hanno visto e hanno testimoniato In quella visione, In Gesù, il verbo di Dio, Così anche noi, guardando l'Ostia, Guardando l'Eucarestia, Siamo chiamati a vedere e a credere. Mi sembra un binomio Che fa anche al caso nostro In questo tempo di avvento. Essere educati a vedere e a credere. Cioè crescere nella nostra dimensione di fede, Da questa domenica, Nel tempo di avvento in modo particolare, Un'educazione sacramentare Alla visione di Dio. Cioè imparare a scoprire La presenza di Dio Negli eventi della vita, Negli incontri, Nelle situazioni personali, Nella nostra esperienza sostanzialmente. Dove, Educati anche dallo sguardo eucaristico, Noi possiamo incontrare, Vedere e approfondire Ciò che è essenziale Per questa dimensione di scoperta. E cioè la presenza del Signore accanto a noi E che ci accompagna ogni giorno. Allora, credo che in questa domenica, Che è poi particolarmente segnata dalla gioia, La terza domenica di avvento È caratteristica per questo. Il messaggio di Giovanni è come dire Colpisce il nostro cuore per dirci Guarda, in questo tempo di avvento, Educa il tuo cuore Ad una visione diversa, Non a quella solo materiale Che tu incontri ogni giorno, Ma a qualcosa di più profondo. Una fede che si appoggia chiaramente A qualcosa di concreto, Agli eventi, alla storia, A ciò che noi viviamo e condividiamo, Ma che al tempo stesso è capace Di entrare più in profondità. Vi auguro tutto questo, La fiducia che questo tempo di avvento, Tempo difficile ancora per tutti, Possiamo vivere questa dimensione di visione E di fede in maniera sempre più forte, Sempre più profonda. Per riflettere, Qual è la nostra identità? E la nostra missione? Lo sappiamo veramente? Siamo capaci di leggere, Negli eventi della nostra vita, La presenza del Signore? In questo tempo di pandemia, Custodisco, Alimento E trasmetto la gioia Dell'annuncio dell'amore di Dio?